Onorevole Stefano Borghesi, qual è il giudizio della Lega Nord sul documento di economia e finanza della Camera dei Deputati? Un giudizio sicuramente negativo in quanto questo documento, fatto ancora dalla loro governo Monti, mostra tutti i suoi punti deboli. Non c'è una programmazione, vengono evidenziate tutte le criticità che sono state riscontrate nel 2012, in primis l'aumento del tasso di disoccupazione, il carolo della domanda interna, il carolo dei consumi, quindi un disastro dal punto di vista economico che il governo dei professori ci ha lasciato in eredità. Quindi questo documento lo certifica e allo stesso tempo però non prospetta nulla di nuovo e nulla di buono, quindi il nostro giudizio sicuramente non può che essere negativo.